ciao a tutti io sono GivGi e bentornati sul mio canale oggi andremo a vedere i pacchi regalo praticamente che vengono forniti a ogni volta che si sale di livello in Apex Legend e quindi bando alle ciance e andiamo a vedere che cosa ci ha regalato e se siamo fortunati uh iniziamo bene allora abbiamo uno sfondo leggendario ed è il primo pacco eh iniziamo bene vabbè metalli che vanno sempre bene e sfondo raro buono allora metalli ok questo guardiamolo un attimo ah è semplicemente equipaggiamolo dai visto che è leggendario questo qua invece sarebbe stato così no preferisco l'altro ok quindi avanti e procediamo col prossimo pacco sti ragnetti strani ne voglio uno a casa di quelli lì allora skin arma raro uh va bene però per essere sono agli inizi quindi regala bene belle cose vediamola un attimo è carina dai ok quest'altra anche rosa bene e altri materiali buono un altro raro comunque procediamo prossimo pacco sì 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 lo voglio quel ragno allora guarda due rari ma che culo allora guardiamo questa skin ok carino morsa del ragno bene bene guardiamo un'altra sempre rara bella forse preferisco questa però ci sono più colori via così si attirà di più l'attenzione del nemico così ci fanno secco subito comunque va bene procediamo prossimo pacco ui ma guarda che roba allora comune vediamo questo equipaggiamola perché tanto questo personaggio l'ho ancora usato non gli ho messo ancora niente quindi gli mettiamo già questa ok poi skin arma bello sto fucile la skin vabbè più o meno vediamo un'altra forse forse preferisco questa ok teniamola equipaggiamola ok ultimo pacco andiamo a vedere dai dai un altro leggendario incrociamo tutti le dita epico è andata bene incrociare le dita allora andiamo a vedere un attimo questo ok e quindi equipaggiamola perché anche questo personaggio qua non l'ho ancora usato io sono proprio all'inizio sto gioco non riesco mai a trovare il tempo sono giusto riuscito a fare appunto qualche pacchetto vediamo questa invece rara bene linea questo l'ho usato già più volte mi fa proprio comodo bene equipaggiamolo e adesso andiamo a vedere questo epico quanto ce ne ha dati 200 buono possiamo utilizzati per creare oggetti ok è stata una bella botta di culo è 5 pacchi 5 roba bella va bene ecco vedi saltello anch'io per la gioia ok ciao ragazzi ciao a tutti